Bentornato, guti e bentornata! Terminiamo questa parte della formattazione e partizionamento. Sei pronto o sei pronta a partire nella formattazione? Ma come si realizza la formattazione? Può essere attuata teoricamente infinite volte, può avvenire in diversi modi e anche con diversi strumenti, ma la suddivisione che ti mostro in questo momento è riferibile sostanzialmente a due tipologie, a caldo o a freddo. Cosa significa? Ogni supporto può subire una formattazione con il sistema operativo avviato, quindi a caldo, oppure a freddo senza che sia attivo il sistema operativo tramite l'utilizzo di quelli definiti come live CD, oppure può subire una formattazione a freddo durante la fase di installazione del sistema operativo. La nota più importante da ricordare è che comunque a caldo ti sarà impossibile eseguire una formattazione del supporto dove è installato il sistema operativo, in quanto il sistema operativo stesso ti inibirà tale procedura. Se devi formattare un supporto a caldo, comunque ti sarà sufficiente eseguire il comando di formattazione che è integrato all'interno del sistema operativo. Una volta che hai aperto Esplora risorse o risorse del computer, che sono dei programmi integrati al sistema operativo, potrai esplorare i tuoi dispositivi di memorizzazione. Potrai selezionare quale di questi devi formattare, cliccando con il pulsante destro del mouse si aprirà un nuovo menu all'interno del quale è presente il comando Formatta. Cliccando ci sopra si aprirà un altro menu per poter iniziare la formattazione. Nella maschera, infatti, che si aprirà potrai innanzitutto selezionare ed eventualmente controlla che tu abbia effettivamente selezionato il dispositivo da formattare in modo da evitare improprie formattazioni. Dopodiché scegli il file system da utilizzare durante la formattazione, che varierà anche a seconda del tipo di sistema operativo che utilizzerai. Cos'è il file system? In sintesi, rappresenta il metodo con cui vengono memorizzati i dati all'interno del supporto di memorizzazione. In pratica, è un insieme di regole che definiscono come i dati vengono memorizzati, organizzati, manipolati e come accedere agli stessi durante la lettura. Ogni sistema operativo ha un proprio file system. E all'interno dello stesso è possibile anche selezionare dei file system diversi, quindi delle regole di memorizzazione e organizzazione diverse. Per Windows, ad esempio, dalle versioni più datate fino a quelle più moderne, i possibili file system sono FAT16, FAT32 o NTFS. Ad oggi, quella più utilizzata è NTFS, ma comunque potrai anche utilizzare, ad esempio, la FAT32, a seconda delle necessità. Come potrai decidere? Beh, ogni file system ha degli svantaggi e dei vantaggi. Ad esempio, l'esperienza quotidiana ti porterà a verificare che la formattazione di tipo FAT non ti permetterà di trasferire verso tali supporti dei file più grandi di 4 GB. Ma questo tipo di formattazione, però, ti permetterà di poter utilizzare il dispositivo mobile come supporto per leggere, per visionare alcuni dati su dei lettori che non siano computer. Mi spiego con un esempio. Prendi una pendrive, diciamo, da 8 GB o anche di più, formatala con un file system tipo FAT32 e, al suo interno, memorizza un file di dimensioni più piccole di 4 GB. Una foto oppure un tuo film amatoriale vanno più che bene. A termine, prendi il tuo dispositivo, se ad esempio era una pendrive, inseriscila, se hai un lettore DVX che abbia un ingresso del tipo USB e se il formato del file che hai memorizzato ha un'estensione compatibile con il lettore, jpeg, bitmap, mp4, avio, mpeg, quindi se questi file hanno estensioni compatibili con il lettore, potrai visionare i file che hai memorizzato sul tuo dispositivo anche sul tuo televisore, per mezzo del lettore DVX. Se invece il tuo filmato ha dimensioni superiori a 4 GB, ti sarà impossibile caricarlo su un supporto tipo una pendrive che ha subito una formattazione con file system di tipo FAT. Il limite di trasferimento di 4 GB è superabile formattando il tuo dispositivo con file system NTFS. Ti potrà venire in mente, ok, in questo modo ho risolto tutto, assolutamente no, in quanto un dispositivo mobile o una pendrive formattata con file system di tipo NTFS risulterà però illegibile nei lettori DVX che non supportano tale file system. Torno al programma di formattazione. Abbiamo detto che nel momento in cui scegli di formattare un dispositivo si apre questo nuovo menu. A questo punto in questa maschera potrai selezionare e visionare anche la capacità di memorizzazione del supporto da formattare. Da questo menu potrai scegliere il tipo di file system, quindi NTFS o FAT, a cui corrisponderà una ben definita dimensione di unità di allocazione, in pratica la grandezza dei pacchetti che creerà questo tipo di file system. Qui potrai anche selezionare il tipo di etichetta da dare al tuo dispositivo, quindi il nome da dare al dispositivo e anche selezionare il tipo di formattazione se veloce oppure normale. Cliccando sul pulsante avvia potrai dar luogo all'inizio della formattazione. Dopo aver cliccato su avvia dovrai confermare con un ok o con un clic qua sopra l'inizio della formattazione stessa oppure qualora fossi indeciso o non volessi portarla al termine, cliccando su annulla abortirai la formattazione. Il tempo della durata della formattazione varierà in base alle dimensioni del supporto, ma di norma non impiega che pochi secondi o al massimo alcuni minuti. Ciò dipende, in ultima analisi, se hai selezionato o meno un tipo di formattazione o l'altra, ossia se nella zona dove è fornita questa opzione hai selezionato il segno di spunta per poter avviare una formattazione veloce, il tempo sarà molto breve. Se non hai esigenze particolari, esegui pure il tipo di formattazione rapida, in modo da rendere più veloce la formattazione stessa. Può esserti sfuggito il fatto che una formattazione può essere eseguita su tutti i tipi di supporti di memorizzazione, come ad esempio pendrive, flash memory, oltre ai normali dischi rigidi. Qualsiasi sia il dispositivo, le procedure sono sostanzialmente identiche a quelle dei dischi rigidi. Ora ti definisco il partizionamento. Questo campo trova terreno fertile, soprattutto nelle persone che purtroppo hanno subito la sventura di perdere dei dati utili, importanti o, peggio ancora, vitali, a causa di problemi di vario genere del disco rigido o del supporto di memorizzazione che conteneva il sistema operativo. Se hai eseguito il percorso dall'inizio, o comunque hai visionato tutte le lezioni, ricorderai quella specificatamente, la numero 5, in cui ho descritto la necessità di seguire il backup dei dati proprio per tutelarti da perdite di questi file. La norma vuole che quando acquisti un pc, un notebook o un netbook che all'interno presenta un disco rigido, all'interno dello stesso è presente un'unica partizione o al massimo due. Significa che in una partizione sarà installato il sistema operativo. Nella seconda partizione, verosimilmente, troverai i dati per il ripristino del computer alla configurazione di fabbrica. Se sei fortunato o se sei fortunata, ne possiede una terza che potrai utilizzare per memorizzare i tuoi dati utili, importanti o vitali. La partizione in realtà è la suddivisione dello spazio di memorizzazione del disco rigido. In essa, quindi, è installato il sistema operativo ed i programmi. Nella stessa c'è anche la possibilità di memorizzare in una o più cartelle, quindi in una o più scatola, ad esempio, anche i tuoi dati, i tuoi file, come le foto, i video, i documenti, le canzoni, varie presentazioni o qualsiasi, ogni altro dato informatico, creerai durante l'uso del tuo pc. In pratica, è come se avessi una cartella, uno zaino scolastico, nel quale alloggerai i tuoi libri, coderni, astuccio, bibite, merendine, qualsiasi cosa che possiedi e che vuoi inserire al suo interno. Nel caso specifico di un hard disk, tutto il materiale digitale. Se vuoi, li vuoi ordinare, nella migliore di ipotesi, creando diverse cartelle dedicate all'interno del tuo hard disk, in modo da suddividerli per categorie, tipologie. Potrai, infatti, creare, ad esempio, una cartella per i video, una per la musica, ancora una per i documenti e così via. Il tutto, però, al termine, sarà sempre all'interno di un unico grande contenitore che rappresenta il tuo disco rigido, ancorché questo disco rigido non ha una partizione dedicata. Ora, immagina questo. Cosa accade se sei costretto, se sei costretta a formattare il tuo hard disk? Oppure si corrompe, si infetta, quindi si altera o si rovina una parte del disco rigido, magari proprio quella dove è presente il tuo sistema operativo. Il PC non si avvierà più e quindi i tuoi dati utili, importanti, vitali, li avrai persi. Se sei un dominatore del computer, puoi tentare di recuperarli, ma se sei un utente medio, verosimilmente non avrai più modo di recuperare questi tuoi dati per mancanza di conoscenze informatiche. Ma se esegui la partizione del disco rigido, cosa significa partizionare un disco rigido? Devi creare una o più parti, sezioni, divisioni, porzioni, insomma, mi hai capito, devi dividere la tua torta, quindi il tuo hard disk, in alcune parti simmetriche o asimmetriche, quindi in zone di uguale capacità di memorizzazione oppure di diversa capacità di memorizzazione. Il numero di queste suddivisioni corrisponde al numero di fruitori della torta, ossia, nel tuo caso, al numero di categorie di dati che vuoi memorizzare all'interno del disco rigido. Prendi allora un disco rigido, prima di formattarlo e prepararlo per la memorizzazione dei dati, devi partizionarlo, ossia, dividere lo spazio disponibile, in termini di gigabyte e terabyte, in una o più sezioni. Ogni sezione verrà esplorata dai vari programmi, dai vari sistemi operativi, come se fossero tanti dischi rigidi indipendenti l'una dall'altra. Se nel tuo computer hai installato un solo disco rigido, nella peggiore dell'ipotesi, devi assolutamente dividerlo in due sezioni. Nella migliore, invece, come dicevo prima, potrai estremizzare oltremisura creando n partizioni, quindi n sezioni, in base al numero di dati che dovrai memorizzare, suddividendole per categorie. Ad esempio, una partizione per i video, una per le foto, una per i documenti e così via. Durante l'installazione del sistema operativo, vedremo anche quindi come partizionare il tuo hard disk. E comunque, già a margine ti dico che tale operazione è anche attuabile una volta che il sistema operativo è installato grazie a dei programmi ben specifici, che tratteremo anche in seguito. Ora, senza esagerare, direi, creare una sola partizione in più di quelle presenti all'atto dell'acquisto ti garantisce di lavorare egregiamente ed in relativa sicurezza. Ma sicurezza di cosa, mi chiederai? Di avere una ragionevole certezza di non perdere i tuoi dati utili, importanti, vitali. Personalmente, adotto una pratica di sicurezza che mi porta a memorizzare quei famosi dati utili, importanti, vitali, sia su un supporto tipo disco rigido e su un DVD o, in alternativa, su dispositivi mobili tipo pendrive o flash memory, ma questo non lo impiego quasi mai per il rischio di perdita o di furti, e, più verosimilmente, anche su dischi rigidi virtuali. Cosa sono questi dischi rigidi virtuali? Oggigiorno, sempre e con più frequenza, puoi trovare spazio di memorizzazione, privato o pubblico, disponibile sul web, quindi su internet. Hai mai sentito pronunciare la parola nuvola in italiano o, in inglese, cloud? Molte aziende mettono a disposizione un loro spazio di memorizzazione, quindi dei dischi rigidi reali di proprietà per i vari utenti. Di norma ne mettono a disposizione una quantità limitata, gratuitamente, che può variare da poche centinaia di megabyte a decine di gigabyte, ed una quantità variabile, fino in linea teorica illimitata, a pagamento, che può essere mensile o annuale. Per usufruire di questi spazi, ti sarà sufficiente registrarti al sito, quindi all'azienda che fornisce tale servizio, scegliendo dei dati di accesso, quindi creando un tuo account, un tuo profilo all'interno del sito stesso, e caricare i file con una procedura guidata. Questi servizi hanno dei vantaggi e degli svantaggi. In ogni parte del mondo in cui ti trovi, e per mezzo di qualsiasi dispositivo fisso o mobile, che possa collegarsi ad internet, potrai accedere a questi tuoi dati, consultarli, scaricarli, cancellarli, caricarne anche di nuovi, fino all'esaurimento totale del tuo spazio virtuale. Lo svantaggio potrebbe anche non esistere, perché è riferito all'azienda che fornisce tale servizio. Nello specifico, rappresenta la sua capacità, la sua affidabilità, di conservare i dati e non perderli, quindi nel garantirti una sicurezza del tuo accesso agli stessi. I criteri di sicurezza comunque continuano ad implementarsi ogni giorno, e quindi il buonsenso mi porta a darti rassicurazioni, anche se la creatività e la capacità di alcuni personaggi si evolve per scardinare i vari sistemi di sicurezza. Però, ragionando con saggezza, cosa ci metteresti su questi hard disk virtuali? Cosa memorizzeresti? Ma credo, le tue password di accesso ai vari siti, negozi tasti, i conti correnti, i codici PIN dei banco, i numeri di carte di credito e i tuoi dati più personali, cose di questo genere, o no? Beh, dalla prossima lezione cominceremo finalmente a parlare dei sistemi operativi. Ora, un forte saluto, ciò a presto, da Carlo e dalla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.